Da economista, se lei dovesse suggerire una mini ricetta, cosa intenderebbe dire quando si parla di politiche attive del lavoro per affrontare anche una concorrenza che ovviamente si è amplificata enormemente negli ultimi anni, non possiamo far finta o alzare le palizzate immaginando che l'Italia e l'Europa sia un mercato domestico dove ci si possano scambiare merci, bene persone senza guardare cosa accade fuori, la concorrenza cinese ovviamente soprattutto su un paese come l'Italia con molti settori manifatturieri in concorrenza, lavorando spesso sul prezzo, ovviamente è un tema che non si può eludere. Se lei dovesse suggerire un paio di ricette, cosa farebbe? Se fosse un legislatore. So fare la pasta ma per la ricetta che salverebbe il mondo non l'ho ancora in tasca, forse domani o dopo domani, ma proviamo di pensarci un po' a questo problema. Che manca all'Europa? L'Europa è nella mondializzazione, ma aritmeticamente come l'Europa è più grande per definizione che i paesi che sono membri dell'Europa, è più chiusa che ogni paese mambro, chiusa vis-à-vis l'estero. Più si estende la zona geografica, più la zona geografica è chiusa. Questo è un risultato aritmetico. Si può fare delle politiche in Europa, ma bisogna avere una struttura che è costante di fare politiche. Non ne abbiamo. Abbiamo costrutto un sistema un po' bizarro, un sistema dove abbiamo un federalismo monetario e un confederalismo budgetario, che significa che è instabile e che significa che non è un sistema che è costante di prendere delle decisioni velocemente. Allora l'Europa ha provato di fare dei progetti e ha detto, programma di Lisboa, ma perché non siamo l'economia la più intelligente del mondo? Ah sì, è vero, perché? Una cosa sarebbe interessante, no? Fare l'economia del sapere la più competitiva del mondo. E hanno raggiunto una parola veramente in piccolo, come si fa nei contratti. La condizione è che non deve costare un centesimo all'Europa. Dunque, hanno definito un obiettivo senza strumento. Quando si definisce un obiettivo senza strumento non si va mai a riuscire a raggiungere questo obiettivo. Io vorrei essere dottore in medicina, va bene, ma ho bisogno di studiare per esserlo. Se non studio, no, è solamente un sogno. E vediamo in questa crisi che questo tipo di politica diventa diventa una politica, un fattore strutturale. Perché siamo in una situazione di crisi. Un filosofo francese diceva che c'è una crisi quando un obbligo di decisione si pone in un contesto dove non si può prendere decisione. E questa è l'Europa. Crisi, obbligo di decisione e non si può prendere decisione. Perché non si può prendere decisione? Perché bisogna l'unanimità. Io direi che ho la ricetta per risolvere la crisi in cui siamo. Sì, la prima cosa è che se siamo un'unione, questo significa in italiano, in francese, in inglese, anche in tedesco, un'unione significa che siamo solidari, no? Altrimenti non siamo un'unione. Il secondo elemento è che abbiamo bisogno. Abbiamo di costruire un futuro. Abbiamo dei giovani, hanno bisogno di un futuro. Noi, il futuro è dietro di noi. Abbiamo bisogno di costruire un futuro. Come si fa per costruire un futuro? Perché l'atto fondatore della costruzione del futuro è l'investimento. E non c'è più investimento. Perché non c'è più investimento? Perché per le imprese è chiaro, non si sa dove l'economia va, ma per i stati non è chiaro. Perché non c'è più investimento? Perché abbiamo tante bisogni che non sono soddisfatti. Abbiamo bisogno di avere un vero sistema di educazione all'altezza della nostra ricchezza. Un sistema universitario all'altezza della nostra ricchezza. Ma abbiamo anche bisogno di avere un sistema di infrastrutture che funziona. Io ho capito che non si poteva andare direttamente da Roma a Berlino. Non ho potuto. Come mai l'Europa non ha un'infrastruttura che costante di mettere in legame diretto le capitali? Come si può pensare che un sistema di questo genere può funzionare se non facciamo un sforzo molto importante sulle infrastrutture, almeno di trasporto, a livello europeo? Sappiamo anche che abbiamo davanti a noi il problema dell'ambiente, il problema dell'energia. Perché non prendiamo questo problema sul serio e perché non decidiamo di andare ancora più veloce degli altri? Perché tutti cercano la soluzioni a questo problema. In Cina, in America, dappertutto. Ma noi abbiamo un vantaggio che è la diversità delle nostre scelte in Europa. E io avevo proposto di creare la comunità europea dell'ambiente, dell'energia e della ricerca. Perché se c'è una cosa che sappiamo fare, sono le comunità. L'Europa è nata dalla comunità del carbone e dell'acciaio. Questa era un'idea geniale, geniale. Questa comunità sembrava come una cosa tecnica, no? Ma era una cosa fondamentalmente politica. Abbiamo messo in comune i mezzi di fare la guerra. Dunque, era un atto politico enorme. Adesso c'è un atto politico da fare. Sull'ambiente, sull'energia, perché sappiamo che questo sarà il modo di evitare la prossima guerra. Perché l'energia va a diventare di più in più rara. Il cambiamento climatico sarà una cosa che può anche essere negativa per noi. Lo è già per altri paesi. Dunque, siamo al limite dell'accettabilità della situazione dove siamo. Abbiamo questo, questa possibilità. Abbiamo un mercato mondiale, perché se noi inventiamo le nuove tecnologie dell'energia e dell'ambiente, i mercati...